Il nuovo ospedale di Alessandria si farà ma non agli orti nell'area di Piazza d'Armi dove è collocato l'aeroporto. Sorgerà in zona Borsalino a Rione Galimberti perché quella parte della città non è esondabile. Questo in sintesi è quanto annunciato dal presidente della regione Piemonte Alberto Cirio durante la sua visita a Alessandrina accompagnato dall'assessore regionale alla sanità Luigi Cardi. La nuova scelta è stata motivata con queste parole. Quella degli orti sarebbe stata la zona migliore per molti motivi ma sarebbe anche costata troppo la messa in sicurezza. Tra le reazioni quella del sindaco Bonante che ha scritto bene che la regione abbia riconosciuto le nostre perplessità relative alla criticità dell'area dell'aeroporto. Non abbiamo ancora avuto accesso alla documentazione che Cirio ha annunciato di Chiara Bonante ma con tutta probabilità oltre a verificare il reale pericolo di alluvionabilità dell'area Il nostro lavoro e quello degli uffici comunali si concentrerà su due macro temi. Innanzitutto per evitare che Alessandria aggiunga un'altra scatola vuota nel centro cittadino vogliamo conoscere i piani della regione per l'edificio che attualmente ospita l'ospedale. Inoltre occorre che a fianco del progetto del nuovo ospedale venga presentato un progetto chiaro per rivedere la viabilità di quell'area che oggi non sarebbe in grado di sopportare un aumento vertiginoso del passaggio di persone e di autoveicoli privati. A questo proposito, conclude Bonante, rimane per noi centrale la questione del secondo ponte sul Bormida su cui chiediamo alla regione una mano per trovare le risorse necessarie a mettere in sicurezza l'area e realizzare il manufatto. Con un solo ponte il nuovo ospedale sarebbe infatti poco accessibile sia per i 16.000 abitanti della Fraschetta sia per il sud-est della provincia. Sul destino della vecchia struttura aveva già risposto l'assessore Cardi, aveva detto raggrupperà i servizi territoriali amministrativi interni all'ASL anche se per il momento solo in parte. Anche l'onorevole Pettazzi della Lega di Alessandria ha giudicato molto positivamente che l'attuale immobile sede del Sant'Antonio Biaggio verrà riqualificato e diventerà la sede di tutte le attività di medicina territoriale. Daniele Poggio della Lega Salvini-Piemonte precisa l'individuazione della nuova area del quartiere Garimberti deriva dalla nuova classificazione PAI, piano ambientale integrato, che avrebbe visto maggiorata la spesa di messa in sicurezza idrica dell'area per 160 milioni di euro, oltre al non rispetto delle scadenze previste dal finanziamento INAIL. Anche l'onorevole Enrico Costa durante la sua partecipazione all'incontro pubblico organizzato da Italia Viva e Azione ha dichiarato Sono al fianco di coloro che sostengono l'esigenza, il diritto di avere una struttura innovativa, qua ad Alessandria come in altre zone del Piemonte sono programmate. Grazie. 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 Grazie.